Ciao amici del bianconero.com, in questo fino alla fine ci occupiamo di magistratura, questa volta però non riguarda la Juventus, anche se la magistratura ha sfiorato anche in questa settimana la Juventus con la vicenda Giraudo, il ricorso che ha presentato Giraudo contro la giustizia sportiva al Tar del Lazio che è finito e ne nulla anche questo per il servizio motivo che i giudici romani non si sono voluti esprimere, ma ormai è un classico, ma di tutta questa vicenda ne parleremo più avanti perché c'è un caso aperto presso la Corte di Giustizia Europea, piuttosto parliamo di magistratura che riguarda le proprietà di altri club, Milan e Inter. Allora c'è un'inchiesta che riguarda la proprietà del Milan perché si vuole capire se il vero proprietario del Milan è questo signore qui, Gerry Cardinale, oppure è ancora Elliot e così poi c'è un tribunale, il tribunale di Milano che ha condannato quest'altro signore Steven Zhang, proprietario dell'Inter, a risarcire i suoi creditori con 320 milioni di euro, così come l'aveva già condannato a fare il tribunale di Hong Kong. Chiaramente i tifosi alzeranno le barricate, le stesse società si difendono dicendo non c'entriamo niente, ma è un po' paradossale questa autodifesa per il semplice motivo che quando si parla del Milan, è vero che non c'entreranno Pioli, i suoi ragazzi e tutti i dipendenti del Milan, ma stiamo parlando di quelli che gestiscono attualmente il Milan e quindi come possono essere estranei alla vicenda che li riguarda. Così per quello che riguarda Zhang è vero che non devono essere Marotta, Ausilio e Antonello a dover pagare i creditori di Zhang, ma il problema è che Zhang è il proprietario dell'Inter e ha già difficoltà a trovare qualcuno che gli rifinanzi il debito, cioè nel senso che trovi qualcuno che gli faccia dei prestiti. Okitri, il fondo statunitense che finora gli ha prestato un bel po' di soldi e che adesso li rivolrebbe indietro, gli ha già detto che non lo finanzia più, che non gli li dà più, proprio perché c'è il pericolo che lui non saldi questo debito. Allora lui sta cercando di andarli a prendere in giro. Come farà a pagare allora i 320 milioni ai suoi creditori? Perché Zhang non si fa più vivo dal giugno 2023 a Milano? Perché compare sempre attraverso video da remoto oppure addirittura attraverso un ologramma ricostruito con l'intelligenza artificiale come è successo all'ultima assemblea dell'Inter. Cioè è vero che Marotta, Ausilio, Antonello, Simone Inzaghi, i giocatori dell'Inter, i dipendenti dell'Inter non c'entrano niente, ma è il loro padrone coinvolto in tutti questi casini. Cioè alla fine quello che paga gli stipendi è Zhang, quello che finanzia l'Inter è Zhang. Quindi bene o male, in un modo o nell'altro, cioè interesserà pure la società Inter quello che sta avvenendo a Zhang. Ma questo anche per arrivare a dire anche un'altra cosa, che riguarda la Juventus. Vi ricordate il dossieraggio illegale di cui si è parlato nelle settimane scorse, che si era creato alla procura di Perugia e che coinvolgeva magistrati, escancellieri, guardia di finanza, giornalisti. Cioè un dossieraggio illegale. Voi di questo dossieraggio illegale avete sentito parlare ampiamente su varie televisioni, su tutti i giornali, per giorni? Così come era stato per il caso Suarez, che era proprio nato dalla procura di Perugia. Caso Suarez finito in nulla, in archiviazione, non c'è stato processo, non ci sono stati indagati, non ci sono stati l'inviaggiudizio, non ci sono stati accusati gente che è stata condannata, nessuno. Eppure nella testa della gente c'è sempre quell'estate nella quale la Juve tentò di far avere una cittadinanza farlocca a Luis Suarez attraverso un esame di donetà alla lingua italiana farlocca presso l'Ateneo Umbro. Cioè tutto questo è rimasto perché? Perché adesso nel dossieraggio illegale, perché si è verificato e quel dossieraggio illegale guardate bene ha riguardato anche l'inchiesta Prisma perché sono stati dati anche dei dati, passate i dati anche alla procura di Torino, che poi non era stata ritenuta idonea a dover proseguire le indagini, è stato tutto trasferito a Roma e non sappiamo nemmeno se adesso la procura di Roma aprirà un processo, cioè se celebrerà un processo, ci saranno dei rinviaggiudizi, stanno ancora scartabellando le carte e i dossier, non sappiamo ancora niente ma la Juve è già stata messa al muro perché ci ha pensato la federazione gioco calcio a dargli a sentenziare su quattro carte e quindi chiaramente è già stata messa al muro anche se poi ripeto sicuramente qualche cosa che non era stata fatta per benino da Andrea Agnelli e dall'ex CDA probabilmente ce l'ha stato, però ricordatevi come era sbattuto il mostro, era stato sbattuto il mostro in prima pagina, come era stata trattata quella vicenda. Adesso per quello che riguarda già la vicenda Mina, la vicenda Zanzi, hanno tutte le delicatezze del caso, ma soprattutto per quello che riguarda il dossieraggio illegale, il dossieraggio illegale, ne parla solo un giornale, tutto sport, tutto sport è l'unico che sta approfondendo questa questione del perché si era verificato tutto questo, questo scandalo, come era stato possibile e perché e quali sono le carte che sono state passate in giro, c'è soltanto un giornale, tutti gli altri, tutti gli altri media se ne fregano abbastanza. Così poi succede appunto come è il caso Suarez che per tutti ritengono la Juventus colpevole, così come ritengono che la Juventus abbia degli agganci con l'Andrangheta, vi ricordate il caso Alto Piemonte? Ecco la Juventus in quel caso era parte lesa, era quella che aveva denunciato semmai di essere ricattata da alcuni club, da alcuni gruppi di tifosi associati all'Andrangheta, no? Che avevano infiltrazioni mafiose al loro interno. Ma la Juventus invece, e secondo l'opinione pubblica, perché siccome non gli è stato spiegato tutto questo, per l'opinione pubblica la Juventus è invece complice con l'Andrangheta. Chi gliel'ha spiegato? Ci prova sempre il solito tutto sport, ma tutto sport, eh, ma è filo Juventino, non ha credibilità. Ma è filo Juventino dove? Fa mica parte del gruppo Gedi, fa parte del gruppo Modei, che è un'altra cosa. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cerca però di fare chiarezza, ma purtroppo il tutto sport lo leggono, sono alcuni tifosi della Juve, non lo leggono tutti gli altri, soprattutto agli altri non gli interessa, perché ormai hanno etichettato anche tutto sport come giornale, filo Juventino, anche su Calciopoli. Tanti sono ancora convinti che la Juventus è comprata le partite, quando ci fu una sentenza che disse, chiaramente i campionati erano regolari, funziona tutto così, funziona tutto così. E' chiaro che poi il sentimento popolare sulla Juventus si formi in un certo modo e se ne formi un altro riguardante invece le altre squadre.